Io non volevo più sapere niente, quello che succede fuori, quello che succede fuori. Ho visto gente che non è davvero, bisogno di presentazione, per riferire i miei fatti, 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 se non per riferire i miei fatti, M dibujate proprio, assez vagab pm, la data si adesso andiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti.